Che fine fanno le case al centro della cronaca, i luoghi in cui sono stati consumati i delitti? Noi siamo andati a Casa Pacciani, a Mercatale e Val di Pesa nel Chianti Fiorentino, che da alcuni anni ha una nuova vita. Maria Adele De Francisci. Siamo a Mercatale, frazione di San Casciano in Val di Pesa, nel Chianti Fiorentino. In questa casa di Via Sonnino abitava Pietro Pacciani, il contadino di Vicchio, qui morto alla vigilia del processo bis del mostro nel febbraio di 26 anni fa. Casa al centro delle perquisizioni per la vicenda del mostro, dell'arresto di Pacciani e poi del suo ritorno dopo la scarcerazione e teatro di abusi subiti dalla moglie Angiolina, che lasciò l'abitazione nel 96 e dalle figlie di Pacciani poi seguite dai servizi sociali. A quella casa la famiglia Pacciani da alcuni anni ha deciso di dare una nuova vita. Quella casa è sempre stata di proprietà della famiglia Pacciani, che nel tempo non la voleva abitare e quindi l'ha messa a disposizione l'amministrazione comunale, che insieme alla COP21 hanno creato un progetto di accoglienza per i migranti, infatti ci abita una famiglia. Per luoghi come la casa di Mercatale di Pacciani è difficile trovare un nuovo acquirente. Molto spesso il potenziale acquirente cerca di sfuggire da quello che possono essere i riflettori e dalla possibilità di trovarsi con persone che vengono a vedere e a peregrinare intorno a questi luoghi che sono diventati famosi anche per situazioni negative. Il consiglio dell'esperto in casi del genere è cambiare la destinazione dell'immobile. Potrebbe diventare o una sorta di albergo, potrebbe diventare una casa come in questo caso per l'accoglienza, potrebbe diventare comunque un punto dove fare magari un centro sociale, un punto d'accoglienza anche per i giovani o per le persone anziane. Una seconda vita per casa in passato al centro della cronaca nera.